ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video con risposte ai vostri commenti come sempre i commenti con bravo bel video complimenti bell'esplorazione o cosa del genere considerate come se avessi già risposto tutti grazie a tutti e partiamo con i commenti che oggi sono veramente tanti anche perché era un po che non vi rispondevo il primo commento è sotto il video della canzone mr crowley cover di ozzy osbourne fatta da una band di amici un video vecchio di dieci anni fa dove tiziano ha lasciato questo commento ha ingannato tutti con la magia crowley più che avere ingannato tutti con la magia li ha ingannati con la ciarlataneria perché era un gran ciarlatano lui nei paranormali non aveva niente non era il grande mago spiritista che per cui si faceva passare era un gran ciarlatano e tanta gente c'è cascata e passiamo ai commenti sotto il penultimo video con le risposte ai vostri commenti il primo è di dida che scrive l'hai lasciato video visto oh yeah oh yeah anche a te grazie molte grazie questa è una bella cosa perché sembra una cosa stupida ma se facessimo tutti così con i canali che ci interessano questi canali potrebbero crescere quindi grazie ancora di dida oh yeah sotto lo stesso video c'è il commento di ryuga wolf wow ma che gran bel evento è stato quante bancarelle e non immagino avvero che profumi scorrevano a me è subito andato l'occhio su quello del cibo messicano ma la prima canzone che hai messo nel video ossia dancing mandala l'è composta nel 2004 con quali software editor io l'ho fatta una simile nel 2009 ovviamente niente a che vedere con la tua la mia è solo un esperimento sì è vero hai ragione la manifestazione è stata una bella cosa con dei profumi e delle cose che facevano girare davvero la testa quella canzone l'ho fatta nel 2004 con magic audio studio 2003 e faceva parte dell'album sea of sounds di cui ti lascio il link qui sotto in descrizione poi c'è gianluca che sotto al video dell'esplorazione santa margherita di vassolda scrive ciao marco scoperto da poco l'esistenza di santa margherita e che tu ci sei stato il posto ne affascina e spero sia rimasto così vorrei andarci ma scendere e poi salire lungo il percorso della vecchia funicolare mi pare una faticaccia penso sia meglio fare come fatto tu e raggiungerlo dall'acqua ti ricordi quanto tempo ci si impiega pagaiando tranquilli sai se in zone esistono punti di noleggio canoe perché purtroppo non ne ho una mia e devo prenderla a noleggio grazie per le info hai ragione fare il percorso della funicolare a piedi scendere soprattutto poi risalire è una bella ammazzata invece andando in kayak è un bel giro comodo da osteno dove sono partito io ci vuole una mezz'oretta arrivare lì a destinazione una mezz'oretta pagaiando con calma però non so se lì noleggiano canoe kayak sicuramente a porlezza lì noleggiano e però da lì ci vuole il doppio del tempo ci vuole un'oretta di pagaiata per arrivare a santa margherita quindi buona pagaiata sotto al video della prima esplorazione a saletta ryuga wolf commenta ma che gusto ci trovano questi miserabili a vandalizzare le lapidi boh il paesaggio è davvero pittoresco come dici con la fortuna che io sarei finito dentro la risaia di sicuro attraversando il sentiero al buio i suoni registrati sono davvero inequivocabili e dalquanto inquietanti specie il pianto della bambina poi nell'ultima registrazione oltre a dei respiri affannosi sembra che qualcuno o qualcosa picchiassi sul microfono davvero anomalo una gran bella esplorazione sì e se vedi anche il video della seconda volta che ci sono tornato anche lì ci sono state registrazioni strane in quel posto boh sembra che ci sia qualcosa di strano anche perché non ci sono antenne ripetitori telefonici antenne radio televisione non c'è niente in quel posto quindi quei suoni e le attività anche del k2 quando si è acceso sì sono cose strane sotto il video di esplorazione a villa arbusta francesco scrive wow che bella esplorazione che mi ero perso la villa è bellissima anche strana per come sono gestiti gli ambienti la registrazione audio è molto strana nemmeno riascoltandola più volte non capisco come sia possibile e quella sagoma purtroppo la vedo sì però non ci vede un monaco ma si vede comunque una sagoma bianca sì quella sagoma è evidentissima e a me sembrava proprio un monaco e l'audio anche quello è strano ma soprattutto ripeto la cosa più strana che è successa lì era la macchina fotografica che è scomparsa dalla custodia chiusa a tracolla e è ricomparsa in un posto dove non eravamo proprio stati quella è la cosa più strana poi c'è rita che sotto il video dell'esplorazione all'ospedale di di mercate commenta a breve butteranno giù tutto ma come io ero convinto che lo stessero rimettendo a posto avevo letto articoli su articoli quando c'ero stato io c'era dentro gli operai che stavano cominciando la ristrutturazione e adesso buttano giù tutto solito spreco all'italiana il prossimo commento è di deus ex machina che sotto al video dell'esplorazione all'eremo dei camaldonesi di lancio torinese mi chiede ciao la chiesa è collegata all'ospedale oppure sono due cose distinte e separate sono due edifici totalmente separati a distanza di una cinquantina di metri l'uno dall'altro ma cioè quando esci dall'eremo dal retro lo vedi già all'ospedale che lì se seguiva vai nel giardino è tutto nello stesso cortile sono due edifici separati ma è tutta una struttura unica poi c'è user numero indecifrabile che sotto al video dell'esplorazione alla rotocalcografica commenta caro marco costa meno comprare il nuovo che smontare portare via il vecchio come nelle cave di serisso dell'ossola anche cui tanto spreco hai ragione tante volte conviene ricostruire da zero ricomprare l'attrezzatura da zero piuttosto che riciclare e riutilizzare quello che c'è già però appunto come iscritto tu io lo vedo come un grande spreco poi sempre lo stesso commentatore sotto al video della prima esplorazione la sanitaria ceschina scrive non si usavano le mascherine ma ci vorrebbero per non inalare pensa da cosa siamo circondati schifezze veleni ovunque in questi posti che sprechi le bonifiche non esistono in questi posti e raramente esistono le bonifiche se hai visto anche alla insa di fagnano lona ci sono dovuto andare due volte io una volta con le strisce notizia poi si sono decisi a iniziare con le bonifiche se no stavano fermi quando sono andato alla crespi gomme crespi materie plastiche di buscate che era un disastro ambientale finché non ho pubblicato il video nessuno ha fatto niente facevano finta di niente in pratica bisogna continuare a scassare le balle alle amministrazioni a chi di dovere per far bonificare tutto altrimenti non verrà mai fatto niente sotto il video della nottata di rilevazione alla chiesa di santo stefano di bianate francesco scrive ma che strani quei tre lampeggi forse l'entità ha visto il pc si è avvicinata forse toccando il pc ora torcia ne ha modificato la potenza oppure è lo schermo del pc che per tre volte misteriosamente si è illuminato al massimo della luminosità non so cos'altro potesse essere meriterebbe un approfondimento questo posto allora ipotesi dello schermo del computer la elimino perché per fare una luce così illuminare davanti la chiesa che era una buona decina di metri sarebbe dovuto scoppiare il computer per fare quella luce lo schermo sicuramente non era e poi lo schermo non era rivolto verso la chiesa ma dall'altra parte quindi non è sicuramente quello io penso per escludere qualsiasi ipotesi paranormale che magari poi è quello però io penso che potesse essere una foglia passa una più foglie passate davanti alla videocamera a infrarossi perché la videocamera infrarossi ha i suoi led che illuminano con luce a frequenze infrarosse e se ci passa davanti qualcosa mi era già successo l'intensità della luce delle riprese varia e poi ritorna normale quando l'oggetto se n'è andato da davanti ai led quindi potrebbe essere dovuto da quello visto che quella sera c'erano tante ma tante foglie che cadevano lì perché l'avevo lasciato sotto un albero il computer e andiamo avanti con il commento di user codice fiscale sempre lui che sotto al video dell'esplorazione a villa giulini scrive bravi ragazzi che usate il caschetto ma non solo casco casco guanti scarpe infortunistiche mascherine per non respirare schifezze e io lo ripeto sempre in tutti i video quando entrate in posti abbandonati il minimo della sicurezza ci vuole invece vedo tanti che vanno in luoghi anche in fabbriche abbandonate marcioni dove c'è davvero pericolo di crollo pericolo di scivolare pericolo di farsi male e soprattutto di respirare schifezze che invece hanno lì senza casco senza guanti senza scarpe senza maschere senza protezioni e se ne fregano di tutto e così non va bene io voglio crepare di vecchiaia senza tumori ai polmoni per aver respirato schifezze si vede che a quelli lì non interessa e arriviamo ai commenti sotto il video del mio funerale tantissimi sono stati di condoglianze mi dispiace anzi più o meno tutti ringrazio tutti davvero per la vicinanza e alcuni questi commenti però hanno anche qualcosa in più e quindi li leggiamo insieme il primo è di urbex italia associated che scrive sentite condoglianze marco tuttavia hai ragione la chiesa è tutto un controsenso non aggiungo altro è un controsenso per i fedeli quelli che i preti chiamano pecore pecorelle il gregge in pratica gli danno dei pecoroni perché sanno che sono pecoroni che credono a queste favore non è un controsenso per i preti per chi gestisce il tutto per loro è tutto molto chiaro non ci sono controsensi e poi dida del canale ombre oltre commenta ti capisco marco al funerale di mia mamma oltre alla sofferenza tanta rabbia per il pretuncolo che voleva che io andassi a raccogliere le offerte certo sì perché la gente per sentirsi più vicino a me avrebbe messo mano al portafoglio al mio rifiuto mi ha detto che era un peccato mortale per mia madre fortunatamente è intervenuto un prete missionario che stimo molto e ha minacciato quel sacerdote io allibita ma avevamo rispettato mamma che era credente che schifo ti abbraccio e forza no davvero ma che schifo davvero voleva metterti a chiedere le offerte ma proprio un marcione un marcione quello voleva pure prenderti per il culo perché quello non è una cosa neanche compresa nelle cerimonie funebri più fanatiche del cristianesimo quella è proprio una cosa voleva prenderti in giro che schifoso e poi c'è il commento di bat fotobat innanzitutto sentite condoglianze per il resto condivido parola per parola specialmente per il funerale tibetano ma guarda secondo me il funerale tibetano di fare a pezzi la salma e darla da mangiare agli avvoltoi in quel caso anche a qualsiasi animale è la cosa più giusta da fare perché alla fine noi siamo fatti di carne la carne è cibo in natura noi verremo mangiati da altri animali saremmo anche prede di altri animali quindi quando siamo morti tanto alla fine nel corpo non c'è più niente secondo me quello che c'è non resta nel corpo quindi il corpo è solo un involucro vuoto destinato a putrefarsi quindi sfruttarlo per nutrire degli animali mi sembra la cosa più giusta in mancanza di questa possibilità come ho detto la cremazione è l'altra cosa più giusta e poi c'è il commento di stefano scusa marco è la prima volta che scrivo un commento un tuo video sono arrivato al minuto 1 44 circa e non vorrei sembrare antipatico ma bastava non fare funerale cattolico al funerale di mia mamma non c'era il prete come molti altri purtroppo capisco il tuo dolore un abbraccio guarda hai più che ragione è vero sarebbe bastato non fare funerale cattolico però purtroppo ci sono i parenti e siccome non mi pareva il caso di mettermi a discutere o addirittura litigare con i parenti per un funerale amen ho sopportato però non è per niente bello io non sono per niente d'accordo e poi c'è il commento di enrico del canale metal gold rush ti farei brasare chissà perché sta cosa me l'aspettavo bravo marco continua a rompere i coglioni per le ceneri meglio il lago così ti fai l'ultima gita semicorporea vabbè farmi brasare il minimo e anzi se qualcuno avesse voglia di riempire i polmoni con un po con qualche mia parte io ci metto il bongo col bracere e tutto è tutto già pronto e le ceneri nel lago boh lago fiume mare l'ho detto a me basta che ci sia tanta acqua in mezzo alla natura poi sono contento e passiamo al commento di ivan ciao marco sono ivan dalla sardegna volevo innanzitutto farti comunque le condoglianze e mi dispiace tanto per come sia andato il funerale perché io ad esempio sono una persona molto cattolica ma dopo questo che ho sentito da te come si potrebbe non crederti ma ti volevo chiedere una curiosità cosa ne pensi dei vari tipi di rosari che vengono fatti anche quello è tutto falsità secondo te grazie ivan ti abbraccio saluti a papà guarda i rosari sono filastrocche come qualsiasi altra preghiera e non è che ci sia qualcosa di esoterico di spirituale sono filastrocche ripetute ripetute proprio il rosario il rosario viene dai mantri indiani che magari vanno avanti le ore ecco quello però ha uno scopo perché questi suoni ripetuti così soprattutto profondi ripetuti lunghi così ci fanno sballare e lo sballo è una cosa che viene ritenuta un modo per mettersi in contatto con le divinità invece nel cristianesimo questa cosa è tutta eliminata è stata sostituita da filastrocche sempre ripetute a ultranza però senza la funzione di farti sballare perché non sono suoni le preghiere cristiane non sono composte da suoni che hanno quell'effetto e in più sono proprio filastrocche vuote ma poi anche se esistesse questo dio ma pensa lui deve continuare a sentire sta gente che continua a ripetere le stesse cose stesse cose stesse cose alla fine dice ma andatevene a cagare ma non avete un pensiero vostro da rivolgermi sapete solo le cose così a memoria perché ve l'hanno insegnate da bambini vanno fatto lavaggio del cervello para orecchie non avete nient'altro nella vostra testa io penso che ci fosse una divinità penserebbe così e poi c'è il commento di jack marco sai cosa penso delle religioni sono state ideate e inventate per controllare i popoli da menti super fini per far sì che il povero non ammazzi il ricco soffrite su questa terra che dopo ci sarà la ricompensa eterna giocando sul terrore della morte che l'uomo ha sempre avuto basta guardare cosa combinano di abominevole nell'ambito ecclesiastico se credessero veramente al dio che tanto vanno zannando e predicando si comporterebbero in questo modo lo fanno per il semplice motivo che passati a miglior vita non ci sarà nessuno a giudicarli perché quel dio l'hanno inventato loro guarda sono d'accordo su tutto e soprattutto sulla frase che hai detto se davvero ci fosse qualcos'altro e sapessero che c'è questa grande divinità non si comporterebbero come si comportano hai proprio ragione hai fatto il riassunto del tutto tu bravo grazie e passiamo al commento di abdabs condoglianze marco so cosa significa un abbraccio sono stefano da modena aggiungo anche sul fatto dei preti hai pienamente ragione e mi farò cremare anch'io sono ateo e non credo in nessun modo alla chiesa a odio a prescindere tutte le loro male fatte già da dieci dodici secoli fa e non parliamo di quelle odierne sarebbe veramente una roba pietosa ciao marco oh yeah guarda pensa che io sono stato nel 1984 il miglior chierichetto dell'arcidiocesi di milano ho il diploma una volta l'avevo anche pubblicato su facebook e c'ero proprio dentro a queste cose lì mi sono reso conto dello schifo che c'era e da allora anch'io no non come te che dici odio tutto quello che fanno mi fanno schifo più che odio mi fanno proprio schifo e poi c'è il commento di francesco e già ai tempi delle crociate hanno sempre cercato di mettere dio in mezzo ai fatti per giustificare e soprattutto far sì che il popolo non compiazioni discordanti con il falso e dalle crociate ma da ancora prima da quando c'è stato l'editto di costantino che rendeva l'impero cristiano in realtà quell'editto era un falso scritto nel medioevo quindi la chiesa cristiana cattolica cristiana è sempre stata una cosa falsa a partire dall'inizio e poi c'è simone che commenta marco non parlo di morte ma di matrimonio quando poco fa mi sono sposato ho passato quella feti da parte dell'ovolo terribile abbiamo scelto di donare dei soldi ad emergency e quando il prete l'ho saputo ha espresso opinioni negative e contrastanti il messaggio cristiano è aiutare il prossimo ma visto e sentito cosa veramente interessa abbiamo espresso la nostra richiesta ti paghiamo per fare la tua parte quello di attore recitare le tue battute bene professionalmente così da ricreare un bel teatro come noi abbiamo voluto bene pagato ha recitato benissimo e hai fatto bene alla fine se qualcuno voleva la cerimonia cristiana vabbè fai l'attore recita la tua parte via che alla fine quello che sono gli stessi pensieri che ho avuto io col prete al funerale però uno schifo e comunque hai sbagliato penso che tu abbia le idee confuse perché il messaggio del cristianesimo non è aiutare gli altri anzi proprio il contrario è aiuta il prossimo tuo ma il prossimo tuo inteso solo con proprio quello che sta in prossimità i vicini quindi quella tua famiglia la tua tribù il tuo gruppo tutti gli altri anzi proprio nei comandamenti c'è scritto nella bibbia gli altri vanno ammazzati sterminati sono proprio nel levitico è uno dei comandamenti fondamentali chi non fa parte del tuo gruppo va sterminato ammazzato torturato perseguitato e schiavizzato questo è il cristianesimo e poi c'è il commento di davide ti capisco perfettamente e condivido la rabbia esser prete è un gran bel lavoro sì in effetti non fanno niente tutto il giorno loro devono solo recitare qualche filastrocca fare la faccia allegra in caso di matrimonio la faccia triste affrante in caso di funerale basta il loro compito è finito si prendono i soldi dell'otto per mille come stipendio in più si prendono i soldi delle offerte e in più si prendono gli oboli in nero per le varie cerimonie è bella sì la vita del prete e poi c'è il commentone di ryuka wolf i funerali in italia a prescindere dalla religione sono un autentico furto c'è gente dietro che sa solo ruclare sulla scomparsa delle persone per esempio quando è successo a mio padre ed avevo 16 anni avevamo chiesto niente stampa e alla fine hanno fotografato di nascosto me e mia madre e pubblicato l'articolo sul giornale locale per non parlare delle pompe funebri comparse dal nulla ovviamente mio padre era buddista e non ha voluto cerimonie e nient'altro solo essere cremato credo che comunque si poteva avrebbe scelto anche lui come fanno in tibet sicuro aveva detto in vita più volte di non mettere assolutamente sotto terra o in una scatola di cemento a farsi mangiare dei vermi perché lì non c'era più niente credendo anche nella rincarnazione comunque ti spongo di nuovo le mie condoglianze buon mercatino per domenica ovviamente non vediamo l'ora di vedere i tuoi contenuti ma sì ma avete fatto benissimo se lui non voleva cerimonie non voleva essere sperlito avete fatto più che bene certo che i giornalisti che bastardi così fanno le foto pubblicano anche se gli chiedi il contrario che schifosi e poi c'è il commento di evelyn le persone vanno vissute quando sono qui mi dispiace per tuo papà ma vivranno i tuoi pensieri per il resto condivido in pieno e sono più che d'accordo le persone vanno vissute quando sono qui è inutile poi stare a piangere a disperarsi quando non ci sono più succederà tutti prima o poi e arriviamo agli ultimi commenti di oggi che sono sotto al video della degustazione della formaggella del luinese il primo commento è di g cugno che scrive fa venire l'acquolina in bocca oh yeah e alberto continua a vedere il formaggio in copertina mi è venuta una fame pazzesca sei sempre il numero uno a vedere il formaggio mi voglia di fare un aperitivo con te e fabio conclude con un buon vinello ah guardate quel formaggio lì è davvero buono saporito e ne prenderò un'altra forma sì 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 e un buon vinello io preferire una birra sì 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 se uno preferisce il vino vino io preferisco la birra personalmente e arriviamo agli ultimi commenti di oggi che sono sempre sotto lo stesso video il primo è di dida che scrive che buono quel formaggio per il mercatino mi spiace era successo anche a noi tolti i posti per piazzare un palco per i politici e luga wolf conclude i soliti politici sempre danni da qualsiasi schieramento alla fine ci rimettono solo i lavoratori bah che spettacolo di cantina non immagino che profumo e quanto deve essere buono da come l'hai descritto poi come detto anche con qualche salume ancora meglio aspettiamo l'assaggio del bergamino sì sa storia dei politici che sono degli schifosi spai dida ti è successo anche a te vuol dire che lo fanno d'abitudine certo che io e gli altri espositori avevamo pagato già da settimane per occupare quel posto arriviamo lì e quel posto occupato da qualcuno che si è messo lì all'ultimo momento che schifosi ma noi siamo politici partiti ci sono le elezioni sono importanti sì sono importanti ma ti devi decidere prima a mettere a prenotare il posto posto è prenotato ti metti da un'altra parte e no loro hanno la precedenza e formaggio cavolo sì è stra buono e non vedo l'ora di assaggiare anche il bergamino sì 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 bene per oggi abbiamo finito questi erano gli ultimi commenti questa settimana non faccio fiere mercatini ne avrò un'ora e scaldina settimana prossima perché questa settimana finalmente ci vuole un'esplorazione e il video ci sarà martedì come sempre nel frattempo voi continuate a seguirmi sul mio canale youtube to speed iscrivetevi e attivate le notifiche così saprete sempre quando escono nuovi video lasciate un commento lasciate un like sotto i video condividete i video se vi sono piaciuti ma soprattutto iscrivetevi al canale così mi aiutate a farlo crescere iscrivetevi anche ai miei gruppi su facebook urbex e mystery dove trovate tutte le coordinate di tutte le mie esplorazioni e escursioni viaggi in kayak dove trovate tanti percorsi interessanti da fare in kayak date un'occhiata sempre su facebook alla mia pagina to speed artigianato dove trovate tutti i miei lavori artigianali in pietra legno e metallo e io vi do appuntamento al prossimo video oh yeah